Continuano senza sosta gli sbarchi in Sicilia, dove in 24 ore sono arrivate oltre 1000 persone, almeno 600 fra Porta Empedocle e Lampedusa, dove è intervenuto il pattugliatore della Marina Militare, Comandante Foscari, che insieme con le motovedette della Guardia Costiera hanno soccorso 226 migranti e li hanno trasbordati su un mercantile battente a bandiera panamense. Precedentemente un'altra ondata di sbarchi ha interessato Catania, dove sono arrivati circa 100 migranti partiti sette giorni fa dall'Egitto. A Portopallo di Capopassero, dove i migranti soccorsi sono stati 126, e a Donina, vicino a Siracusa, dove la Capitaneria di Porto ha salvato altri 108 migranti. In tutti i barconi c'erano donne incinte, bambini e anche neonati.